Ma io credo che nella cornice di questa promozione che ha fatto Libera di questa giornata, meritoriamente, la presenza dell'Università Giustino Fortunato corrisponde alla sua vocazione, perché l'Università è sempre un luogo di formazione civile, oltre che di formazione nella professione, nella competenza e nei saperi. Le competenze e i saperi richiedono però che lo studente che passa di qua sia consapevole di essere cittadino di questa comunità e il sacrificio di Del Cogliano e di Germano corrisponde ad un momento di grave frattura della nostra società, in cui una banda di delinquenti, come quelli delle Brigate Rosse, ispirate da ideologie sbagliate, pensavano di risolvere i problemi ammazzando i simboli. Come ricorda la targa vicino all'albero, si possono ammazzare le persone ma non ciò che rappresentano. E Germano e Del Cogliano rappresentano appunto questa testimonianza civile di volere una comunità più giusta e che questo può essere d'esempio per i giovani che frequentano l'Università.